L'attenzione della città si è risvegliata sull'aspetto della romanità, c'è stato un tavolo tecnico con l'amministrazione, sindaco, assessore, voi avete avuto l'incarico di progettare questo evento con una peculiarità imprescindibile, ovvero sia la cultura e la qualità, vi state muovendo in questo asse? Sì, assolutamente sì, nella città ci sono una serie di associazioni che possono veramente dirla loro in modo importante in questo ambiente, associazioni che lavorano in tutta Italia nei principali eventi storici, queste associazioni sono tutte intorno a un tavolo per cercare di costruire un progetto che guardi alla cultura, a coinvolgimento completo della città, ad attività popolari, richiamando magari anche gruppi che possono venire da fuori d'Italia per far regalare un momento importante alla città di Fano che possa guardare uno dei temi più importanti della città che è la romanità. Quali sono i punti saldi di questo progetto che state elaborando, se si possono elencare? Ma sì, sicuramente come ho detto un'attenzione particolare al Pincio e quindi a trasformare questo in una Fano in Fortuna, quindi in una Fano romana. Poi tutto un palinsesto di eventi programmatici e è uscito dal tavolo tecnico anche la possibilità da parte dell'assessore Marchegiani di ripartire proprio alla grande con la Corsa delle Bighe, che noi è un momento che vediamo assolutamente interessante e che tutta la città vuole. Nel primo incontro che è stato fatto, una cosa è emersa su tutte, che va benissimo, qualsiasi progetto vogliamo fare, secondo noi deve essere comunque un progetto a lungo termine, uno che la città possa vivere e non spezzare come è successo negli anni, così da lasciare un po' di amaro in bocca anche ai fanesi. Quindi un progetto a lungo termine, secondo noi, è ciò che serve alla città. Grazie.